soggiorni in città itinerari sportivi weekend da sogno eco vacanze ce n'è per tutti i gusti giulia breadbury e toby emis ci guidano verso destinazioni da non perdere dalla movida urbana al silenzio di piccoli angoli nascosti passando per hotel lussuosi o semplici locande suggerimenti e consigli preziosi per fare della propria vacanza un'esperienza perfetta il meglio del mondo ogni martedì alle 21 su dove tv